Oh, ok. Dunque il suo è delle dimensioni di una bottiglia di avianne. La luminosità è buona. La camera sembra pulita. Sembra ben curato. Vero? Ok, sì. Inizio a comprenderne il fascino. Grazie. Ma il fatto è questo. Gli ho mandato qualche foto dal bagno della scuola durante la lezione perché... Aspetta, nuda. Non posso parlarne, ma mi serve il tuo aiuto. Sì, certo. Qualsiasi cosa. Vorrei avere delle belle foto di nudo parziale. Tipo di classi, ma non troppo artistiche. Cioè, come se non mi fossi impegnata molto, ma che potrebbero anche stare al MoMA. Sta calma, Ru. Sì, facile. Se è quello che vuoi. Grazie. Allora. Allora. Allora.